Ulteriore chiusura dal governo, al bando feste in casa e calcetto. Il ministro della salute Roberto Speranza è stato ospite ieri sera a Che Tempo che Fa, storico programma di Fabio Fazio sul Rai 3. In diretta Speranza ha anticipato ulteriori misure di prevenzione del contagio che verranno adottate dall'ormai attesissimo prossimo DPCM. Il decreto doveva essere pubblicato la settimana scorsa ed avrebbe dovuto imporre nuove limitazioni in tutta Italia, come l'obbligo di mascherine all'aperto ed in ogni ora del giorno. Una stretta necessaria visto l'aumento dei contagi in tutta la penisola e la proroga dello stato di emergenza almeno fino al 31 gennaio 2021. Il ministro conferma l'irrigidimento e l'enorme anticontagio e rilancia. Siamo costretti a stringere le maglie dopo settimane in misure che le allargavano. La maggior parte dei contagi sta avvenendo nell'ambito familiare, afferma Speranza. È per questo motivo che il nuovo DPCM vieterà qualunque tipo di festa privata, anche in casa. Non sarà più possibile invitare amici e parenti anche solo per una cena conviviale. La questione ha già sollevato le prime polemiche, soprattutto riguardo alle modalità con cui verrà controllato il rispetto di tale limitazione. Alla domanda di Fazio, Speranza ha risposto candidamente. Confidiamo in numerose segnalazioni dei cittadini. Un vero e proprio invito alla delazione che potrebbe far insorgere contrasti fra il vicinato o addirittura segnalazioni fasulle. Si lavora anche sugli orari di chiusura di bar e ristoranti, misura già adottata in campania al presidente De Luca, con l'introduzione del coprifuoco dopo le 23. Tale limite orario potrebbe quindi essere steso a tutto il paese. Fermi anche incontri sportivi amatoriali, come la classica partita di calcetto con gli amici. Il ministro spera di arrivare alla firma del decreto entro domani sera, ma sicuramente in settimana queste nuove regole diverranno ufficiali. Intanto, ieri pomeriggio, il governatore De Luca, ha lanciato in diretta su Facebook un appello a tutti i cittadini della campania. Chiediamo ai nostri concittadini di indossare sempre la mascherina. Se siamo prudenti e responsabili, risolviamo il 90% dei problemi. Se siamo irresponsabili, la situazione si aggrava. Noi le decisioni che prendiamo non le prendiamo a prescindere. Dobbiamo seguire quotidianamente la curva epidemiologica. Stiamo facendo di tutto ovviamente per tenere sotto controllo la situazione, ma è indispensabile la collaborazione dei nostri concittadini. Ripeto ancora una volta che se indossiamo sempre la mascherina risolviamo il 90% dei problemi. È una ricetta molto semplice, ma è evidente che se ci troviamo di fronte all'alternativa o teniamo tutto aperto o facciamo morire a gente, mi pare evidente quale sarà la scelta. Noi speriamo di non dover arrivare ad alternative drammatiche come questa, però dobbiamo collaborare tutti.